Ecco siamo alla fine del lungo parco Maria Callas che arriva fino all'arco di Augusto, al centro di Rimini e ora stiamo per arrivare in piazzale Kennedy, nella zona del centro della Marina, la zona delle spiagge, ecco qui vediamo che termina il parco, c'è tutta una zona di parcheggi, il parco comincia qua, la prima parte si chiama Parco Renzi, ma prosegue fino ad arrivare all'arco di Augusto e con il nome di Maria Callas, vediamo anche l'indicazione per la metromare che si trova a circa 200-300 metri, sempre la metromare fermata Kennedy che poi porta verso Riccione, ecco vediamo la caratteristica costruzione di piazzale Kennedy, qui di fronte, ecco questa è la zona dove inizia poi il parco, ecco qui abbiamo la fermata di piazzale Kennedy, dietro abbiamo la fermata di piazzale Kennedy, l'hotel Artis e ora andremo su questa costruzione. qui abbiamo le belle view qui in fronte, vediamo le spiagge, la bellissima vista panoramica delle spiagge di Rimini che si susseguono per ben 5-6 km, da questo punto. qui abbiamo due o tre grandi alberghi, qui abbiamo la la zona centrale, il Waldorf, l'ambasciatore, l'imperiale, in lontananza vediamo la ruota, ecco con queste immagini di piazzale Kennedy e delle spiagge di Rimini che vanno verso sud, verso Riccione, terminiamo questo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.